Una manifestazione pubblica davanti ai cancelli di Palazzo Moffa per chiedere le dimissioni dell'intero Consiglio regionale. L'iniziativa parte da una decina di associazioni, tra cui l'Unione degli Studenti del Molise, confluite nel coordinamento frane-molisane per dare organicità alle azioni portate avanti singolarmente in questi mesi. Un modo per far fronte comune, per far sentire con maggiore forza la propria voce e per dire basta all'attuale governo regionale. Il coordinamento organizzerà dal 14 al 17 maggio momenti di dibattiti e confronto su temi che interessano da vicino i cittadini del Molise, i costi della politica, sanità pubblica, lavoro e scuola, legalità e giustizia, ambiente, territorio e trasporti. In piazza Municipio a Campobasso saranno allestiti dei gazebo punti di ritrovo per quanti vorranno confrontarsi o semplicemente ascoltare le proposte del coordinamento. È una meravigliosa avventura fatta di tutte le associazioni e i comitati che in qualche modo si rivedono sulle tematiche che noi stiamo portando avanti singolarmente sui problemi di questa regione. C'era la necessità di mettere insieme le forze perché tante volte appunto si vedono alcuni di noi anche isolati e lì è nata questa idea di fare questo gruppo chiamandolo frane-molisane che ovviamente non ha nulla a che fare con le purtroppo tante frane che troviamo lungo le strade ma sono le frane che questa regione sta causando. Saremo presenti quattro giorni a Campobasso che si terranno in piazza Municipio ed è un primo momento di incontro tra persone e cittadini che hanno a cuore il territorio. La verità è che il filtro è saltato, il filtro tra i partiti e le istituzioni, tra i partiti e i sindacati e il cittadino non si sente rappresentato. Il cittadino vuole che se si presenta a fare le analisi di qualsiasi genere non deve avere risposte a sette, otto mesi. Questa è la sanità che vuole il cittadino, non quella arzigocolata dai commissari, subcommissari, tavoli tecnici, balduzzi, massicci e tutte queste belle chiacchiere. La verità è che questa situazione sta andando a fondo. Vorrei uno spirito di sacrificio da chi è chiamato a dare risposte per motivi istituzionali e elettorali a dire guardate cominciamo a vedere che cosa fare concretamente, non con slogan come oggi è uscito un quotidiano dicendo che frattura riduce l'IRPEF. Questa è una bufala, ma una bufala pesante, nel senso che non è possibile pensare a una cosa del genere. Bisognava applicare, o meglio, c'è il rischio che il cittadino molisano, oltre ad avere i disservizi e avere le aliquote addizionali IRPEF tra le più alte d'Italia, venga aggiunto un ulteriore 0,30. E questo è lo scandalo più grosso. Poi il 19 maggio la mobilitazione davanti al Consiglio regionale.